No, lui fa il giro di qua, si ruota tutto e poi si mette a scelta. A te! Il loro inseguimento è il tentativo di fermarli e recuperare il calito illecito. Il sacrificio di questo eroe militare, Francesco Mattana, verrà celebrato il 248esimo anniversario della fondazione del corpo. Questa cerimonia segue la fase di rappresentanza, un'aliquota di appartenenti all'Associazione Nazionale Finanzierica. All'ingresso della caserma è presente inoltre una guardia d'onore, al comando di un ispettore. All'ingresso della fac jugar Mi è grado rivolgere alle donne l'affermazione della legalità nei contesti economici e finanziari per l'internazionale. Il contesto nel quale vi trovate ad agire fortemente in funzione dei provvedimenti sanzionatori verso i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza, il compatto antiterrorismo pronto in piego è testimonianza significativa del ruolo e per la lungimiranza complicituita. Mi forgo a tutti voi un cordiale saluto e un sentito ringraziamento per essere qui con noi oggi a festeggiare il 248esimo anniversario della Fondazione.